Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. È morto a Firenze a 83 anni il celebre stilista Roberto Cavalli. Era malato da tempo. Lascia la terza moglie Sandra Bergman Nilsson dalla quale ha avuto due anni fa il sesto figlio. Giorgio Cavalli nasce a Firenze il 15 novembre del 1940. Rimane subito orfano, il padre è ucciso in un rastrellamento dei nazisti, si diploma all'Accademia di Firenze. Poi dà sfogo alla sua passione per l'arte prima, poi la fotografia e infine la moda. Poco più che ventenne sposa Silvana, ma il matrimonio dura poco. Nel 1980 sposa in seconde nozze Eva Maria Duringer, seconda classificata a Miss Universo nel 1977. Diventa la sua principale collaboratrice sul lavoro. Nel 1970 presenta al Salone del Pretà Porter di Parigi la sua prima collega collezione. Le sue stampe animalier, i broccati, gli intarsi di pelle diventano uno stile subito riconoscibile. Apre un negozio a Saint Tropez di jeans usati e rimaneggiati alla sua maniera e conquista Brigitte Bardot e Mick Jagger. Accanto alla collezione Roberto Cavalli vengono creati i marchi RC Manswear e poi la linea giovane Just Cavalli, lanciata nel 1998. Il 18 giugno 2013 riceve una laurea honoris causa in fashion management dalla Domus Academy di Milano. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.